Un tragico incidente sul lavoro ha colpito la comunità troentina. Un operaio di 37 anni è caduto dal tetto di un'azienda durante dei lavori di manutenzione, riportando gravi ferite. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata, mentre l'uomo era impegnato nella rimozione di pannelli di amianto per una ditta esterna di Tortoreto e si trovava sul tetto dell'Atacoplast in via Roma. Secondo le prime ricostruzioni sembra che l'operaio abbia perso l'equilibrio mentre si trovava su un carrello elevatore precipitando da un'altezza di circa 5 metri. Le sue condizioni sono apparse subito critiche. Soccorso immediatamente dal personale del 118 è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Mazzini di Teramo, dove è stato necessario un delicato intervento chirurgico per i numerosi traumi subiti. I carabinieri della stazione di Martinsicuro hanno avviato un'indagine per chiarire la dinamica dell'accaduto e verificare eventuali violazioni delle normative di sicurezza sul lavoro. Le cause precise dell'accaduta sono tuttora oggetto di indagine. Un nuovo episodio che riporta il focus dell'attenzione sul tema delle morti bianche. Nel 2024 il numero di vittime dovute a incidenti sul lavoro ha già raggiunto le 28 persone in Abruzzo, un dato allarmante considerato che siamo solo a 5 mesi dall'inizio dell'anno. Un thread comunque in aumento rispetto ai 36 decessi del 2023 e ai 21 del 2022. Una tendenza decisamente preoccupante. La questione della sicurezza sul lavoro rimane un problema nazionale, come evidenziato dai sindacati, specialmente durante le celebrazioni del primo maggio. Le continue tragedie, come l'ultima drammatica vicenda di Casteldaccia in provincia di Palermo, dove 5 persone sono morte cercando di guadagnarsi da vivere, sollecitano un intervento immediato. La comunità di Martinsicuro attende con ansia ulteriori sviluppi sulla salute dell'operaio e sulle indagini in corso, mentre lo slogan «Non si può morire di lavoro» risuona ancora chiedendo misure concrete per fermare queste tragedie quotidiane.